un nuovo appuntamento per il carnevale di marca quest'oggi siamo a pianziano nel comune di godega di sant'urbano anche oggi tante emozioni venite con noi un nuovo appuntamento per il nostro canale con il sindaco di godega di sant'urbano paola guzza allora questo carnevale di marca dirai due parole divertimento e sicurezza assolutamente sia l'insegna del divertimento lo possiamo vedere dalle tante persone che sono qui con noi oggi ci fa piacere perché il divertimento per i piccini ma anche per i più grandi è una bellissima cosa a cui ci teniamo molto ringrazio tutti quanti cari che sfilano tutta l'organizzazione di carnevale di marca perché dietro a tutto questo c'è un grandissimo lavoro quindi grazie a tutti ringrazio i tanti volontari che ci sono messi a disposizione anche del comune la protezione civile quindi grazie a tutti veramente all'insegna appunto anche della sicurezza quindi protezione civile e polizia locale per garantire la sicurezza della manifestazione quindi un mio grazie a tutti quanti sono veramente contenta è un edizione anche questa molto partecipata quindi non può altro che renderci felici insomma ecco ogni anno si sceglie una località diversa del suo comune quest'anno Pianzano quest'anno Pianzano e prossimo anno Bibano è nostra usanza a cambiare ogni anno frazione in modo da accontentare tutto quanto il territorio comunale quindi prossimo anno appuntamento a Bibano vi aspetto